Franco Oddo, come stai Franco? Salve, saluto a te, saluto a tutti. Stai benissimo. Bene, direi bene, sì sì sì. Gli anni passano però il fisico ancora mantiene. Io lo ripeto spesso, l'età non è anagrafica ma biologica. Conta lo spirito. Questo è sicuramente, è chiaro c'è da dire che gli anni passano sicuramente. Però ecco, se uno li accompagna, bene, con quello che occorre, sanno alimentazione, vita come si deve, insomma uno riesce, un po' di sport, questo è importante. Veniamo a noi, allora Pescara-Salernitana. La Salernitana si gioca tutto quasi perché non può assolutamente perdere l'Adriatico. Il Pescara ha disputato, numeri alla mano, un ottimo campionato, 52 punti, quinto posto. Sì, obiettivamente non si può dire altro, cioè nel senso il Pescara ha fatto un buon campionato. Forse non si prevedeva neanche che facesse questo tipo di campionato. Malgrado quello c'è qualche malumore, si speggia qualche malumore. Perché indubbiamente forse si sarebbe potuto anche fare di più a un certo punto della stagione. A un certo punto della stagione la squadra ha risentito un po' di stanchezza. Probabilmente ha adoperato, cioè molti giocatori sono stati molto sfruttati. Quindi è chiaro che avevano bisogno, mi ha fatto pensare alla partita di ieri sera per esempio dell'Ajax. Anche l'Ajax non è più brillante, ha spunti di gioco ancora notevoli, a me piace moltissimo come gioca. Però è chiaro che alla lunga la stanchezza si può far sentire, alla lunga. Sono giocatori che magari vengono sfruttati, giocano più stabilmente in squadra. Serie B mai così incerta come in questa stagione. Sarà per il fatto che sono solo 19 squadre. Però in questo momento, a parte le due già retrocesse, Carpi e Padova, l'unica squadra sicura di un piazzamento è il Benevento che arriverà a quarto. Sì, questo è vero. Però non sottovalutiamo il fatto che ci sono 19 squadre soltanto. Perché già il campionato di Serie B è stato sempre così. Fino alle ultime giornate, le ultime 3-4 giornate, una squadra poteva lottare per fare i play-off, ma poteva lottare per evitare i play-out a 22 squadre. A 19 è chiaro che ne mancano 3, quindi le distanze sono ancora più precarie. E quindi è chiaro che c'è questo problema. E in effetti è un campionato che non si sa effettivamente come finirà. Pescara-Salernità, abbiamo detto, doppio ex. Un doppio ex importante perché ha allenato Franco Oddo e Pescara dal 94 al 96. Nel 94 sostituì Giorgio Romignani dopo la sconfitta di Perugia. Ricordo perfettamente quella partita perché l'ho seguita a gol di Federico Giunti. Arrivò Franco Oddo, salvezza tranquilla. L'anno successivo un grande campionato. Ricordiamo tutti quella strepitosa prestazione di Salerno, gennaio 1996. Grandissimo gol di Federico Giampaolo, raddoppio di Gelsi. Primo posto in classifica, poi sappiamo tutti le vicissitudini di quel campionato, però rimane un grandissimo ricordo. Io sono stato a Pescara per due anni. Nutro dei ricordi alterni, sia a Pescara che a Salerno. Sono momenti di grande esaltazione, momenti quindi bellissimi, come altrettanti momenti invece di costernazione, di cose che non andavano bene. A Salerno per esempio, la seconda volta in Serie B, sono stato esonerato, poi richiamato, ho salvato la squadra. Tra l'altro in quella stagione 2001 ad aprile, la serenitana di Franco Oddo batte il Pescara di Delio Rossi. 3-1 e il Pescara fu condannato aritmeticamente alla retrocessione in Serie C. Sì, 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 me lo ricordo. Un'altra volta ci fu all'ultima giornata un Pescara salernitana, in cui la salernitana aveva ancora delle speranze di andare in Serie A. Invece io ero subentrato dopo l'esonero a Maifredi. Era proprio il 96, 95-96. E ci salvammo, e ci salvammo proprio pareggiando 1-1 con la serenitana, però eravamo già salvi noi, avevamo già vinto ad Avellino. Ad Avellino, poi in casa con l'Andrea 5-1. Però quel pareggio impedì alla serenitana di andare in Serie A, anche se avesse vinto, però non ci sarebbe andato, dato i risultati scaturiti da quella domenica. Tanto partita, ricordo, caratterizzata da tanti incidenti, no? Tifosi in mezzo al campo. Sì. Troppo una brutta pagina. Sì, sì, sì. Tornando appunto ai tuoi trascorsi a Salerno, ecco, ricordo quella stagione, no? 98-99. Tra l'altro fosti portato a Salerno da Pavone, se non va adorato o no? Dopo Rosso. Sì, 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 c'era Pavone. Sì, sì, sì. Che crea molto nelle tue qualità. Campionato di Serie A, 5 vittorie, soltanto una sconfitta e due pareggi. Due di queste 5 vittorie contro Juve e Inter. E una sconfitta a Cagliari, sì. E quella ci fu fatale, la sconfitta di Cagliari. In quei momenti l'allenatore deve essere bravo a toccare le corde giuste, si dice sempre così, ma anche tatticamente. Ma io, dunque, ormai io ho smesso di fare l'allenatore, anche se non si sa mai, può darsi pure, allenano tutti, a 70 anni, Reia, 73, 74. Quindi non si è mai passata la voglia. Zemano ancora vuole allenare. No, mi era passata a 60. Ah, ho capito. E ho smesso. Poi mi è ripresa la voglia. Però non mi chiama più nessuno, quindi è chiaro che gioco a tennis, mi diverto. Sono stato effettivamente molto, molto bravo. Voi vi direte, ma ti vanti da solo? No, molto bravo nel subentrare nell'anno in corso. Probabilmente per, magari, qualche conoscenza che ho in più, essendo professore di educazione fisica, riesco a capire anche determinate situazioni, determinate anche situazioni atletiche. Per cui, effettivamente, ho fatto molto bene. Cioè, guardando i risultati, giudico che ho fatto bene. Cioè, perché ho sempre salvato le squadre. Le squadre che mi hanno richiamato, oppure chiamato perché si devono salvare, a metà campionato, addirittura, l'anno della promozione dell'Avellino. Mi chiamarono a otto giornali dalla fine e riuscimmo a vincere il campionato allo spareggio contro il Napoli. Il Napoli di Reia? Il Napoli di Reia, esatto. Per cui, quello l'ho fatto sempre molto, molto bene. Un po' meno bene mi è andato quando prendevo le squadre durante l'estate. Questo non so perché, probabilmente, non avevo, non so, forse mi sopravvalutavo io, non pensavo mai di pretendere grandi giocatori dalla società, pensavo di poter supplire, diciamo, la bravura dei giocatori con il gioco e quindi è chiaro che poi, probabilmente, i valori erano quelli, insomma. Vedendo le due semifinali di Champions League, quella tra Barcellona e Liverpool e quella proprio di ieri sera tra Ajax e Tottenham, possiamo dire senza tema di essere smentiti che in Italia siamo ancora molto indietro? Sì, io direi di sì. Io direi di sì, nel senso... Allora, io vedo una cosa, vedo tante partite in televisione e i commentatori, per esempio, verso il 55esimo, il 60esimo incominciano a dire le squadre sono stanche, le squadre sono stanche e questo mi fa una rabbia, ma una rabbia, ma le squadre italiane, quando vedo il campionato italiano, le partite italiane, le squadre sono stanche, adesso le squadre si allungano, ma perché dovrebbero essere stanche le squadre? Dopo 55-60 minuti, ma perché le squadre si debbono allenare per 60 minuti? No, si debbono allenare per 95 minuti e hanno le condizioni, hanno la gioventù, hanno preparatori atletici, adesso ci sono tutti i mezzi possibili, immaginabili sotto il profilo tecnologico per poter valutare la forma dei singoli giocatori, valutare gli allenamenti, ci hanno tutto per poter fare 100 minuti ogni partita a 1000. In Italia però siamo sempre stanchi. Perché questo accade in Italia? Perché non ci alleniamo bene probabilmente, cioè con la dovuta intensità e per la dovuta durata, cioè non prepariamo le squadre per poter durare 100 minuti a 1000 all'ora. In Europa vince l'idea soprattutto, e anche l'organizzazione tattica, qui si è indietro anche sotto questo profilo, perché l'unica squadra europea esistente in Italia oggettivamente e obiettivamente è l'Atalanta di Gasperini. Sì, è vero. Infatti l'Atalanta, ecco, per esempio, l'Atalanta fa risultati non perché ha grandissimi giocatori, ha una buona squadra, ma non eccezionale, però è una squadra che in campo è preparata benissimo, corre dal primo al 95esimo minuto con lo stesso ritmo. Intensità, quindi? Intensità. E corrono in sincronia e in sintonia, cioè l'uno con l'altro. La Sernitana si è affidata a Menichini, purtroppo è sonerato Gregucci, però i risultati poi sono stati determinanti. Tra l'altro 8 K.O. nelle ultime 10 partite, 4 sconfitte consecutive. Ecco, Menichini conosce l'ambiente, a cosa deve stare attento, secondo te, il Pescara di Pillon? A la disperazione della Sernitana, perché la Sernitana, penso che l'unico risultato che potrebbe salvarlo è la vittoria, e quindi è chiaro che cercherà di vincere. Il Pescara, io penso che sia già nei play-off, però non può perdere, sarebbe meglio almeno non perdere, quindi pareggiare, e non si deve accontentare. Secondo te deve cercare di fare una partita, tanto non ha niente da perdere, deve fare una partita normale, approfittando del nervosismo della Sernitana, e cercare di vincere la partita, anche perché la classifica parla chiaro. Pescara ha più punti della Sernitana, quindi sulla carta è più forte. Rivisitando la tua esperienza a Pescara, c'è un rimpianto a distanza di, sono passati 23 anni, perché io ritengo che quella squadra, la 95-96 sia stata una delle più forti degli ultimi 23 anni in Serie B. No, un rimpianto c'è grandissimo, che quell'anno finimmo il campionato di, cioè il Girona d'Andata, prima in classifica, con un grande entusiasmo, una grande prestazione a Salerno, vincendo. Se non ci fossero state lotte intestine, interne alla società, che poi si sono chiaramente propagate anche fuori, io penso che avremmo avuto ottime possibilità di vincere il campionato. Grazie, grazie ancora a Franco Oddo, e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie. Magari arriverà una chiamata. Nella vita tutto è possibile. Grazie a tutti.